Ciao Astronomers, oggi voglio mostrarvi una nuova piattaforma che abbiamo appena introdotto nelle nostre piattaformate Vixen Style. Sì, sapete che sono disponibili in un lungo 350 mm, in un medio-range 240 mm, in un più corto 140 mm e in un molto piccolo e compagno 90 mm. Ma in questo momento vengono anche con una connessione di Arca-Swiss, quindi questo è la cosa cool, perché puoi usare la barra del dovetail per collegare il tuo telescopio ad un montaggio equatorial, come questo, o un montaggio alt-hazzo, che viene con un Vixen Style dovetail, ma sul l'opposito, puoi anche connessare la capa fotografica, quindi se vuoi collegare il tuo telescopio ad un fotografico o un fotografico tripod, puoi fare questo, con la stessa dovetail, il Vixen Style Plus System. Grazie Grazie